Ciao a tutti i Drivers, sono Francesca e bentornati sul canale e bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me! Pici 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 pucca, cingo yo, waha! Siamo tornati qui su Adopt Me ragazzi, siamo tornati qui su Adopt Me perché finalmente ho messo le mani su 3 RGB Boxes. Tutti quanti giù nei commenti, grazie amica di Franci che come al solito non vuole farmi dire il nome ogni volta che devo parlare di lei, è un grandissimo mistero e sono sicura che mi tradirò e rivelerò qualche sua informazione personale che lei non vuole che venga rivelata. Ok, ansia! Comunque la mia fantastica amica, detto Franci, comunque a me la missione per avere l'RGB Box è già uscita 3 volte. Come è uscita 3 volte? Cioè, cioè, in che senso? A me non è uscita nemmeno una missione, ha fatto evidentemente non stai giocando abbastanza, ma io... Ma vabbè, ma facciamo così, queste 3 box te ne do a te, non fa niente, sono sicura che ne avrò altre. E quindi mi ha dato queste 3 RGB Boxes da aprire o da scambiare, ha fatto facci quello che vuoi. Quindi ragazzi, io sono troppo contenta e se sia anche voi siete curiosi di vedere cosa usciranno queste RGB Boxes, se finalmente riuscirò ad avere lo Squid o il Camaleon. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace adesso, iscrivendovi anche al canale, tappando la campanella, Instagram e TikTok giù in descrizione, come giù in descrizione il sito delle nostre magliette, il merch, Never Stop Dreaming e anche Insta Gaming. Secondo link in descrizione dove ci sono i Robox in sconto. Allora, quest'intro in realtà già l'avevo registrata, poi internet mi ha lasciato e si è resettato Roblox. Quindi oggi ci connettiamo per il 489 giorno, ho già preso i miei 200 dollari e siamo a 543 stelline. Quindi ce ne mancano soltanto 7 per lo Starfish. Dubbio, quanti Starfish ho? Pet, eh, Sky, mi stavi facendo preoccupare. Allora, in realtà vorrei vedere, quanti Starfish ho? Ho sbagliato a scrivere Star. Starfish ne ho 5, 6, 7, buono, è abbastanza. Tu non vuoi fare ancora nessuna missione? Allora, a livello di missioni, in realtà, me ieri ne è uscita un'altra. Dai al tuo pet una pozione in cambio di una All Core Potion. O come si chiama? Io questa pozione in realtà non ce l'ho. Se vado in food, scrivo All. Non ce l'ho, oppure se scrivo Cure, non ce l'ho quella pozione. Quindi è fighissimo, non vedo l'ora di averla per la prima volta. Però sto aspettando di raccogliere 7 missioni per farci un video nei prossimi giorni. Allora, se vado in food... No, dovrei andare in gift. Allora, vi esce anche proprio scritto, diciamo così. Allora, le mettiamo tra i preferiti tutti e tre. E togliamo queste qui, perché così io poi posso fare lo screen per la miniatura, che sono carine e coccolose tutte insieme, perché se io vado qui in preferiti, scendo, scendo, scendo e in gift, eccole qui, abbiamo tutte e tre. Se io adesso clicco, c'è scritto proprio 44% comune, 30% non comune, 14.5% raro, 7% ultra raro e 4.5% leggendario. Ora, noi, che fortuna abbiamo? Siamo sempre sfortunatissimi, quindi sono abbastanza sicura che nel 4.5% non ci entrerò né ora né mai. Però, sperare non costa nulla. Sì, qui mi è salito sopra il quadro, mi è salito sopra lo specchio, va bene, non ci facciamo caso. Presto, ragazzi, ditemi un po' giù nei commenti che video vorreste vedere qui sul canale di Adopt Me, qualche video particolare di Adopt Me, fatemi una specie di lista. Video franci, tutti i video che vorreste vedere, giochi che vorreste vedere, video che vorreste vedere qui su Adopt Me, trade particolari che vi piacerebbe vedere, e poi fatemi anche sapere che video vorreste che io registrassi con i salamotti, perché si ritorneranno i video con i salamotti, soltanto abbiamo avuto tutti i diversi problemi, percorsi particolari che stiamo facendo, cose che ci tengono impegnati, e quindi non abbiamo trovato modo di registrare. Però, dalla settimana prossima, spero che tutti riusciamo un po' a liberarci. Ho una sete incredibile, ma qui ho la mia tisanina. Ti scotta un botto! Ma no! Ci ho lasciato la lingua... Oh, mamma! Ci ho lasciato la lingua su, ragazzi! Mamma mia! Ci ho lasciato proprio la lingua! Oh, mamma mia! Va bene! Piccoli sorsi, ragazzi, quando le cose sono bollenti e fumano, piccoli sorsi. In realtà, più tardi, devo anche mettermi a fare l'elenco dei nuovi pet che ho avuto questo mese, perché, se tutto va bene, domani ci sarà l'aggiornamento dell'inventario, se mi ricordo. Allora! Trading RGB Box for YouTube. Taking the best offer, it's my last from Six for Good After or maybe only for Tom Stone. Credo Tom sia la Tom Stone. Anche io ce l'ho, in realtà anche io volevo provare a vedere che cosa mi offrivano per una RGB Box, ma può essere che se lei è lì, che ci sbanea su scambiarla, forse non è davvero molto interessante. E questo è l'ospedale, sì. Le persone non sono molto interessate. Oh no! Sono stato hackerato ieri! No! Ah, raga, pure voi mi state iscrivendo... Non voglio andare dalla dottoressa Peluche. Anche voi ieri franci sono stato scammato, sono stato hackerato, turudutututututututu come devo fare. Sul canale qui trovate diversi video guide, vi basta cercare sono stato hackerato oppure sono stato scammato, che cosa facciamo? Vi basta cercare sul canale e troverete i video guida. Seguite quei video dove vi spiego tutto, come fare, come contattare Adopt Me e così via. Sky, ti manca una missione per diventare teen. Trading no potion, Skellerex. Trading 200k Robux per Adopt Me Pet. Ragazzi, non vi fidate quando dicono che si scambiano i pet, che scambiano i Robux. Non è vero, non possono farlo, quindi non vi fidate. raga, io spero davvero tantissimo che mi esca lo squiddy, ma non credo. Ho visto che ci sono tantissime cose che possono uscire, tipo possono uscire l'astronave, la spada rattle, però io vorrei la... vorrei vedere il coso, cioè vorrei, capite? Vorrei uno squiddy, ma non credo che mi esca. Non sono molto fortunata in queste cose, lo sapete. Aspettate, aspettate, andiamo a vedere prima se c'è qualche cosa nuova qui. Allora, abbiamo gli occhiali di Harry Potter, la foglia e le palme. Allora, io credo che qui mi mancano praticamente tutto, forse tranne la sciarpa rosa. Gli occhiali di Harry Potter, ma versione argentata, bisogna comprarli. La fogliolina bisogna comprarla. Le pannocchie qui bisogna comprarle, assolutamente. questo ce l'ho. Questi non lo so, però sono carini e li compriamo lo stesso, anche se costano un botto. Però questo sicuro non ce l'ho perché non mi piaceva proprio, ma va bene. In realtà, questa sciarpa già ce l'ho, però la ricompro perché mi sono resa conto che mi piace utilizzarla molto. mi sono resa conto che mi piace molto utilizzarla. Sky? 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 Ti prego, Sky? Ok. Momento di panico perché pensavo che si fosse bugato. Allora, proviamo a vedere chi può fare trade con me. Tutti. Ok, già c'è scritto tutti. Prendiamola una box. Vediamo se ci offrono qualcosa. È bianco che è uscito scritto. Vabbè raga, però guardatela che è bella. Ok, abbiamo una richiesta di trade. Vediamo un po'. Una chizzure, un pinguino ride e un panda, un red panda. No, grazie. Dodo YouTube, Dado YouTuber. Ciao Dado. Allora abbiamo un pappagallo. Ah! È vestito come quello di Demoslayer, Zenitsu, come si chiama? Franci, a Davrom. Ciao Davrom. Chiamami Pino. Ciao, ciao anche a chiamami Pino. Quindi abbiamo Davrom e chiamami Pino che era quello vestito come Zenitsu. Zenitsu. Ho difficoltà a ricordare i nomi. Quindi quelle. Mitty Keg, Mitty Keg, Golden Penguins, Shark e un alcohol potion che mi uscirà a breve, quindi no, grazie. Questa ragazza è venuta da me dicendovi posso aprirla io? Guarda, sì, sì, ti permetterò proprio di... ti darò la mia box. Tu la aprirai e poi scapperai via. Volevo fare un bel un bello screen ma si è fatta notte quindi adesso devo aspettare che diventi giorno. No, la sto prendendo! Non l'ho fatta apposta! Non volevo aprirla! La spada. la spada? La spada? Sul serio? Una spada comune che vi ricordo il comune il 44% una spada. Grazie. L'ho sempre desiderata. Scrivo il RGB. Allora, dai comuni può uscire anche lo zainetto. Ok? Spada zainetto e l'iscia. iPhone propeller. Perché ho l'impressione che mi usciranno tutte queste cose ragazzi? RGB carro passeggino tutto suzitunze poi petware RGB può uscire il collarino e le cuffie e il computer. non credo che ci sia qualcosa di food no infatti. Vehicles abbiamo il monster truck e l'ufo qua la cosa non è fatta per niente bene ma è carinissima mi piace un sacco sembra una cosa pericolosa ma adesso non prenderò la scatola fino a quando non sarà giorno e posso fare il dobbiamo cercarti allora quasi non ricordo male in questa zona qua con le uova non mi è andata malissimo ok pick up guarda come sei scintillante vai oro per essere uno che si rotola nelle palline di pupù sei proprio scintillantissimo allora usciamo di casa e andiamo al parco giochi no aspetta senti quasi sta piuttosto bene si prendiamo una scatola attenzione a non cliccare sullo schermo sky un po' è esatto dobbiamo metterci in modo da sembrare sbuffa dopo ecco qui una cosa del genere vai screenshot screenshot salvato nella galleria com'è bello lo stream deck che io premo i tastini allora facciamo così uno lo apriamo al parco dai andiamo vabbè parcheggiamo no ok senti non sono propriamente nelle strisce aspetta aspetta facciamo le cose fatte eccoci qua banana car perfettamente parcheggiata vai divertiti allora sono pronta sono pronta per aprire facciamo finta di non aver visto niente ok sono pronta sono pronta sono pronta ah si l'ho capito la premo 3 2 1 via ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego collarino vediamo eh non le sta male non le sta male è carina come cosa però dove ce ne andiamo andiamocene proprio qui nella grotta come terzo e ultimo posto per aprire perché secondo me potrebbe portarci fortuna ciao nixie stop ride mi metto qui al centro niente pet perché magari avendo il pet è anche questo ok ragazzi sono pronta ma è la mia ultima box si 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 3 2 1 prego ti 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 prego di nuovo di nuovo di nuovo dai su tre cose mi sono usciti due doppioni giavero tanti giocattoli che mi potevano uscire mi è uscito il doppione cioè mi pare assurdo mi sembra assurdo il doppione poi ovviamente nessuno lo vuole voglio piangere vabbè il doppione glielo ridarò questo glielo ridarò alla mia amica sicuramente lei sarà contenta se lo vuole ma lei sicuramente voleva il pet sicuro se mi fosse uscito se mi fosse uscito lo squiddy avrebbe fatto vabbè franci erano le mie le box dai dammi il pet ne sono sicura che l'avrebbe che l'avrebbe fatto no ragazzi ci sono riviste malissimo cioè mi sarebbe andato bene lo zainetto mi sarebbe andato bene qualsiasi altra cosa ma non di nuovo la spada fatemi sapere voi avete aperto ciao quali ciao amici ciao amici che cosa stai guardando quindi ragazzi fateci sapere se voi avete aperto qualche rg box che cosa vi è uscito dall'rg box se avete nuovi pet fatemelo un po' sapere lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e per iscrivervi al nostro canale tappate questo il pallet non sto cadendo mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate sulle miniature che vedete a schermo noi vi salutiamo e ci vediamo domani alle 15 con un nuovissimo video ciao ciao